Nulla sarà più come prima. Anno 1066. L'Inghilterra affronta una svolta cruciale che muterà per sempre il corso della sua storia. La conquista da parte dei normanni rappresenta un momento decisivo. Un avvenimento controverso agli occhi degli storici anglosassoni. Ma l'Inghilterra non fu l'unico obiettivo dell'espansionismo normanno. I normanni dilagarono sulla scena europea in un susseguirsi di brillanti campagne militari e conquiste. Nonostante il ruolo di rilievo occupato da questo popolo nella storia del vecchio continente, esso scomparve nel giro di due secoli dalle terre che aveva conquistato e domato. La battaglia di Estings fu forse la più lunga azione di guerra di tutto il Medioevo. Tutta Europa guardò con orrore a questo scontro. Fu una carneficina. Buona parte dell'aristocrazia e dei nobili d'Inghilterra venne trucidata o imprigionata e condannata a morte. Altri fuggirono a Costantinopoli. La nazione cadde sotto il dominio di un sovrano spietato. Guglielmo era un generale esperto, agiva con freddezza e prudenza, ma era capace anche di decisioni temerarie. Attraverso la propaganda i vincitori cercarono di far credere che l'Inghilterra fosse un paese arretrato, una terra in cui era ancora in uso una lingua barbara, l'anglosassone, e credenze religiose estranee al resto d'Europa. I conquistatori descrissero l'Inghilterra come un paese primitivo che essi avevano salvato dalla barbarie. Carlo Magno era morto nell'814 d.C. L'impero carolingio, da lui creato, si stava smembrando. Con la sua disgregazione, l'Europa cadde nel caos. Nessun monarca venne giudicato idoneo a raccogliere la grande eredità di Carlo Magno. Il suo impero venne diviso fra i tre nipoti. La parte occidentale divenne il regno di Francia. Il suo sovrano, Carlo il Calvo, aveva in proprio possesso solamente una piccola parte del territorio francese, ma in qualità di re esercitava il controllo sui grandi feudatari. Il sistema feudale in Europa si era imposto da tempo. Al vertice della gerarchia c'era il re. A Kenhavn, in Galles, ancora oggi possiamo assistere a un rito che ricorda i tempi del feudalesimo. Una cerimonia antica divenuta una tradizione amata dalla maggior parte degli inglesi. Il principe ereditario presta al sovrano solenne giuramento di fedeltà e di appoggio militare. Nel Medioevo promesse simili erano fortemente vincolanti. I monarchi, ritenuti tali per diritto divino, avevano un potere immenso. Il re di Francia esercitava il suo dominio su un'area territorialmente limitata, ma in quest'ambito la sua autorità era incontrastata. I legami feudali erano una realtà estranea alle popolazioni pagane del nord Europa, ad esempio ai normanni, di stirpe vichinga e originari della Scandinavia. Per secoli le coste dell'Europa settentrionale e occidentale avevano subito i loro attacchi. Erano uomini di mare, esperti navigatori, dei temibili avversari. Le popolazioni europee non sappero reagire ai loro assalti. Che il Signore ci scampi dall'ira dei vichinghi era un'invocazione molto comune. I monasteri, in particolare, erano soggetti a frequenti assalti, come Mont Saint-Michel, circondato quasi completamente dal mare. Vennero attaccati ripetutamente anche quelli situati in regioni più inaccessibili, come Jumiege, vicino Rouen. I monaci, stanchi, riunirono le poche cose di valore rimaste e abbandonarono quel luogo. Il convento, un tempo fiorente, cadde in rovina. A capo delle incursioni c'era un norvegese, Rollone. Era un uomo dal fisico imponente, impavido e crudele. Il popolo normanno trovò coesione attorno a questa figura guida. Per evitare incursioni su Parigi, il re di Francia fu costretto a trattare con lui. Non era possibile sconfiggerli con un'azione militare. Nel 911 venne così concluso un accordo. A Rollone e ai suoi vennero concessi i feudi della Normandia, come vassalli dovevano difenderli da potenziali invasori e servire lealmente il re di Francia loro signore. Un altro punto dell'accordo prevedeva che il loro capo norvegese, Pagano, si convertisse al cristianesimo. Per i normanni non fu un problema. Il capo vichingo venne battezzato durante una solenne cerimonia nella cattedrale di Rouen. Rollone festeggiò l'evento in modo molto singolare. Uccise alcune centinaia di prigionieri. Alla sua morte venne sepolto in quella stessa cattedrale. Fu unanimamente riconosciuto come il primo leader dei normanni. la loro storia era solo agli inizi. Rollone e i suoi discendenti non si comportarono mai da cristiani ma furono molto legati alla chiesa. Si dedicarono attivamente alla ristrutturazione dei monasteri che acquisirono grande splendore. l'arcangelo l'arcangelo Michele rappresentato nell'iconografia con la spada sguainata divenne il santo patrono dei normanni. Essi impiegarono molto denaro per ricostruire il monastero a lui dedicato. come spesso avvenne nella storia di questo popolo molte scelte celavano motivazioni politiche. I normanni di Ruan Rollone suo figlio e suo nipote gradualmente restituirono le proprietà sottratte ai monasteri. In questo modo la loro dinastia si assicurò l'alleanza con la chiesa potendo così godere del suo favore. Ciò era essenziale in quanto abati e vescovi appartenevano all'aristocrazia del luogo. Solo col sostegno del ceto nobiliare Rollone poteva consolidare il suo dominio. La chiesa aveva un enorme potere per questo il suo appoggio era fondamentale. Nelle cronache storiche redatte dai normanni due temi sono predominanti la guerra e le donazioni alla chiesa. Due cose apparentemente in contrasto ma per i normanni era perfettamente normale. fin dai tempi antichi essi diedero molta importanza al potere militare. Ritenevano indispensabile investire grandi somme per avere le armi migliori cotte di maglia elmi metallici spade d'acciaio. Venivano pagate cifre esorbitanti soprattutto per i cavalli. Crearono salde basi militari per controllare le terre conquistate. I cosiddetti castelli Mott & Bailey erano mezzo efficace. erano realizzati su rialzi di terreno artificiali e dotati di palizzate di legno. Erano costruzioni molto semplici e rispondevano a diverse esigenze. Avevano funzione difensiva erano una base d'appoggio per gli attacchi e un centro amministrativo per il controllo della popolazione locale. Attorno all'anno 1000 in Europa si assistette a un risveglio religioso. Fra i monaci e gli ecclesiastici la corruzione era diffusa. Anche il papato si era coperto di disonore. L'impulso per una riforma dei costumi partì proprio dai monasteri francesi e in special modo da quelli normanni. Beh, un tempo depredato dai vichinghi divenne uno dei più vivaci centri di rinnovamento. I normanni sostennero progetti di riforma del clero. liberati dal malcostume e dalla corruzione i monasteri francesi attrassero i più brillanti teologi dell'epoca. Divenne abate di Bé Lanfranco da Pavia uomo di lettere teologo e attivo riformatore. grazie al sostegno dei normanni egli trasformò un vecchio convento sconosciuto in uno dei più famosi centri di studio dell'Europa medievale. molte delle opere qui redatte all'epoca sono ancora oggi gelosamente conservate nella biblioteca del monastero. Attualmente solo pochi esperti si interessano a questi testi. Un tempo invece Bé attirava studiosi da tutta Europa. il più famoso fu un italiano Anselmo d'Abaggio. Egli in seguito ascese al soglio pontificio e divenne uno dei grandi riformatori della chiesa. I suoi scritti divennero patrimonio comune di tutto il mondo cristiano. Prima della nascita delle università i monasteri erano attivissimi centri propulsori della cultura. Bé eccelleva in questo campo. La Normandia ormai non era più ritenuta una terra di barbari predoni come ai tempi di Rollone. I signori di quelle terre investivano nell'arte e nella cultura mettendo a disposizione dei teologi e della chiesa ampie ricchezze. Nel giro di un centinaio di anni i normanni non erano più gli uomini del nord. Ormai non esercitavano più la pirateria e si erano convertiti al cristianesimo. Avevano abbandonato l'antica lingua scandinava, parlavano il francese e si erano integrati con la popolazione locale. Gli antichi miti su questa stirpe nordica vennero appositamente creati dagli storici del tempo. I normanni trovarono una coesione nelle leggende dove venivano rappresentati come popolo eletto dal Signore. Si diceva che sarebbe stato loro inviato un grande condottiero nato però sotto cattivi auspici. Il duca normanno Roberto che viveva a Falaise ebbe una relazione clandestina con la figlia di un contadino del luogo. Nacque un erede illegittimo Guglielmo. Di ritorno da un pellegrinaggio in terra santa Roberto morì. Il bambino aveva solo sette anni. L'ascesa al trono di Guglielmo trovò molte opposizioni. Nacquero complotti contro di lui e dovettero intervenire alcuni amici fidati di suo padre e i familiari di sua madre per proteggerlo dalle numerose congiure. L'ostacolo principale alla sua successione era costituito dal fatto che Guglielmo era figlio illegittimo. Sua madre non era regolarmente sposata con il duca Roberto. Gli zii in special modo ritenevano che per questa ragione egli non avrebbe mai potuto ereditare il potere. In realtà grazie anche al sostegno della famiglia materna i suoi oppositori non riuscirono a spodestarlo. Con eccezionale per la sua età Guglielmo riuscì a superare ogni ostacolo. Divenne uno dei più grandi condottieri medievali perfettamente addestrato a combattere con la spada e maestro nelle tecniche di guerra con utilizzo della cavalleria. Questa esperienza gli era necessaria. La Normandia subiva pericolosi attacchi dall'esterno mentre al suo interno i potenti feudatari fomentavano rivolte. A 18 anni nello scontro di Val de Dune per la prima volta si trovò a capo dell'esercito. Sconfisse i baroni ribelli con il sostegno del sovrano di Francia. Il biografo di Guglielmo narra che egli impavido di fronte alla forza dei nemici compì una vera strage. Il giovane duca mostrava già un animo spietato di cui il suo avo rollone sarebbe stato fiero. Dopo questo scontro vi furono molte altre battaglie. Guglielmo ne uscì sempre vincitore. I suoi uomini lo consideravano invincibile. Adottò nuove strategie d'attacco. Ad esempio fingeva di ritirarsi per poi assalire il nemico di sorpresa sconfiggendolo. Nel corso degli anni respinse molti attacchi alle frontiere della Normandia fra questi quelli del re di Francia suo ex alleato. Anche all'interno del ducato c'erano tensioni fortissime. Il castello di Caen è il simbolo della determinazione di Guglielmo nel riportare l'ordine nelle sue terre. Da qui egli gestiva il potere. Il castello rappresentava la sua autorità. Guglielmo era un impareggiabile stratega non solo sul campo di battaglia. Riuscì a consolidare il suo ruolo anche grazie al suo matrimonio con Matilde. Scelse abilmente la sua sposa, una giovane affascinante figlia del potente conte di Fiandra. Ma c'era un ostacolo all'unione. La chiesa aveva stabilito leggi molto rigide in materia coniugale ponendo limiti alle unioni fra parenti. In qualità di cugini Guglielmo e Matilde non avrebbero potuto sposarsi. Anche il pontefice non approvava questa unione. Ma da Roma furono messe a tacere le obiezioni quando Guglielmo fece costruire due grandi abazie a Cannes. un imponente monastero dedicato a Santo Stefano e in onore della moglie Matilde uno splendido convento per suore. La cosiddetta Abbazia delle donne con la chiesa della Trinità divenne poi luogo di sepoltura di Matilde Alla sua morte nel 1083 la regina fu inumata nella chiesa fatta edificare dal marito Guglielmo il conquistatore era considerato un eccellente guerriero sapeva combattere la vittoria di Estings ne fu una dimostrazione lampante possedeva anche un'ampia visione politica creò la città di Cannes riunendo diversi piccoli villaggi attorno a un imponente castello e costruì due abbazie fu un progetto urbanistico davvero strategico l'espansione territoriale fu un elemento fondamentale del disegno politico dei normanni l'Inghilterra rappresentava per Guglielmo un'allettante opportunità di conquista era una nazione anglosassone con una popolazione di due milioni di abitanti la metà dei quali in condizioni di semischiavitù gente semplice dedita all'agricoltura e asservita al ceto nobiliare l'aristocrazia aveva creato un'efficiente macchina amministrativa per governare il paese imponendo un sistema tributario molto redditizio l'imposta fondiaria grazie ad essa il regno d'Inghilterra era uno dei più ricchi d'Europa era una nazione prospera ordinata con un territorio molto più vasto del ducato di Normandia un'occasione da cogliere al volo l'attrattiva dell'Inghilterra era la sua ricchezza ed era per questo stesso motivo che generazioni di scandinavi erano state indotte in passato a saccheggiarla il regno aveva un efficientissimo apparato amministrativo che non lasciava spazio all'evasione fiscale i sovrani riuscivano sempre a riscuotere ciò che era loro dovuto nessun'altra nazione europea aveva un sistema di esazione così valido quindi ciò che attirò Guglielmo non fu il trono o il titolo regale ma la possibilità di conquistare una terra ricchissima in quegli anni l'Inghilterra attraversava una grave crisi dinastica si diceva che il sovrano anglosassone avesse promesso la corona a Guglielmo in caso di mancanza di eredi diretti il duca normanno oltretutto poteva rivendicare dei diritti egli infatti era cugino del re d'Inghilterra Edoardo il confessore ma diventare sovrano di quella terra non sarebbe stato facile vi erano altri pretendenti tutti come Guglielmo avevano origini vichinghe ognuno di loro era fermamente deciso a conquistare il potere agli inizi del 1066 fu portato a termine il progetto che stava più a cuore al re inglese l'abazia di Westminster un edificio splendido progettato da architetti normanni Edoardo il confessore però morì lo stesso anno l'unica funzione religiosa a cui partecipò in quella chiesa fu il proprio funerale con la morte di Edoardo avvenuta nel gennaio del 1066 si estingueva la dinastia dei sovrani anglosassoni immediatamente dopo la scomparsa del re il cognato Harold Godwinson prontamente organizzò nell'abazia la propria incoronazione come nuovo sovrano salì al trono col nome di Haroldo II re d'Inghilterra molti aristocratici sostenevano la sua causa in special modo la nobiltà anglo-danese a lui alleata il colpo di mano di Haroldo spinse i suoi avversari all'azione Guglielmo duca di Normandia fu il primo a intervenire sosteneva che in passato Haroldo gli aveva giurato fedeltà riconoscendolo legittimo erede alla corona inglese affermò che rompere un giuramento era un atto sacrilego con questa abile mossa riuscì ad assicurarsi l'appoggio del Papa proprio in quei giorni apparve nel cielo notturno la cometa di Halley venne considerata un cattivo auspicio per Haroldo anche l'esercito radunato da Guglielmo non lasciava presagire nulla di buono un'armata di 7000 uomini si raccolse nel porto di Dives-sur-Mer vicino a Caen non erano tutti normanni circa un quinto di essi proveniva dalle regioni vicine Bretagna Fiandre Artois e Piccardia la spedizione era stata preparata con cura venne appositamente costruita una flotta di 700 vascelli nonostante gli uomini fossero pronti Guglielmo non volle correre rischi le cattive condizioni meteorologiche e le notizie ricevute dalle sue spie in Inghilterra lo inducevano alla prudenza i suoi informatori gli avevano preannunciato l'intervento di un altro pretendente al trono un personaggio pittoresco il potente re di Norvegia Harald Ardrade un uomo gigantesco si diceva avesse ucciso un leone a mani nude era pronto a sbarazzarsi anche di Haroldo Haroldo dovette momentaneamente ignorare la minaccia delle truppe normanne per affrontare l'avversario norvegese i loro eserciti si scontrarono a Stanford Bridge nello Yorkshire in questo luogo tranquillo sulle rive del fiume Derwent si svolse una battaglia sanguinosa il 25 settembre 1066 questo fu il teatro di un vero e proprio massacro Ardrade colpito alla gola da una freccia morì le truppe vichinghe furono travolte centinaia di uomini erano giunti in Inghilterra con la flotta norvegese composta di 300 navi per riportare in patria i sopravvissuti ne bastarono 24 Guglielmo aveva atteso con pazienza incitando al tempo stesso le truppe salpò la sera del 28 settembre al suo seguito aveva un esercito potente 7000 uomini e 600 cavalli 3 per ciascun cavaliere la nave su cui era imbarcato Guglielmo guidava la flotta dopo la traversata notturna giunsero nella baia di Pevensey le truppe appena sbarcate ringraziarono il Signore e poi si diedero a grandi festeggiamenti Guglielmo cominciò a seminare il terrore mettendo a ferro e fuoco i paesi nei dintorni come sempre accade in tempo di guerra furono molti innocenti a farne le spese nel frattempo Aroldo e le sue truppe dopo il duro scontro a Stanford Bridge si prepararono a marciare verso sud per 400 chilometri impiegarono solo 12 giorni si sarebbero scontrati con il più potente esercito d'Europa quello normanno la cavalleria di Guglielmo disponeva di forti destrieri abituati alle battaglie ben più agili di quelli inglesi tozzi e lenti questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria inoltre era indispensabile che fossero docili in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia occorreva poi che fossero coraggiosi per continuare a combattere anche feriti infine dovevano essere aggressivi e partecipare attivamente al combattimento sabato mattina 14 ottobre 1066 presso la cosiddetta Battle Hill vicino ad Estings ebbe inizio la battaglia con lo stendardo papale al vento Guglielmo avanzò lentamente seguito dalla cavalleria la fanteria di Aroldo stremata dallo scontro a Stanford Bridge formò una barriera con gli scudi gli arcieri normanni ingaggiarono battaglia cominciò così uno dei più asperi combattimenti della storia medievale la cavalleria si lanciò alla carica ma non ottenne alcun risultato il pendio della collina dove si svolgeva lo scontro ne ostacolava l'azione fin dall'inizio le truppe di Guglielmo si trovarono in grande difficoltà i normanni disponevano di ottimi reparti a cavallo ma gli uomini di Aroldo erano dotati di un'arma micidiale quest'ascia a due mani con cui erano armati gli ingaggi era un eccellente strumento di attacco secondo le cronache riusciva ad abbattere cavallo e cavaliere in un solo colpo era un'arma molto pericolosa nella confusione del combattimento si sparse la notizia che Guglielmo era stato ucciso la prima fase si concluse con la vittoria degli inglesi i normanni sfiduciati sembravano ormai sconfitti ma all'improvviso Guglielmo lanciò nuovamente la carica al grido di vinceremo con l'aiuto di Dio i suoi uomini vedendolo ripresero coraggio esaltati e pieni di fiducia i normanni si lanciarono alla carica più volte durante la battaglia morirono tre cavalli di Guglielmo ma vennero sostituiti con altri altrettanto validi le selle erano molto incavate per evitare che i cavalieri venissero disarcionati un pomo posto sulla parte frontale e uno su quella posteriore consentivano di rimanere comodamente in groppa nelle raffigurazioni della razza di Bayeux si può notare un'altra caratteristica le staffe erano lunghissime i cavalieri potevano così mettersi in piedi e colpire facilmente con la spada o con la lancia i normanni avevano tre modi diversi di usare la lancia il primo con il braccio sollevato al di sopra della spalla poi c'era il movimento dal basso ideale per colpire i soldati di fanteria e infine stringendo la lancia sotto il braccio questa tecnica venne perfezionata nell'undicesimo secolo per disarcionare l'avversario la battaglia fu una delle più lunghe della storia inglese il vantaggio acquisito dalla cavalleria normanna andò sempre più riducendosi gli inglesi avrebbero potuto ancora ottenere la vittoria fu allora che guglielmo decise di ricorrere al trucco della finta ritirata ordinò a tutti i suoi reparti di ripiegare non era una tattica improvvisata l'aveva già usata in passato diede ordine ai suoi cavalieri alla fanteria e agli arcieri di andare alla carica contro gli inglesi per poi allontanarsi come se avessero deciso la ritirata in questo modo li avrebbero indotti ad abbandonare le posizioni prima che l'esito dello scontro fosse deciso gli inglesi una volta scesi a valle sarebbero stati accerchiati e sconfitti pensando di avere la vittoria in pugno i soldati anglosassoni ruppero i ranghi e inseguirono i normanni fu un errore fatale seguendo gli ordini di guglielmo i cavalieri normanni circondarono gli inglesi e li massacrarono dopo più di otto ore di combattimento la vittoria sfuggì di mano agli anglosassoni secondo le prime interpretazioni della razza di Bayeux Haroldo sarebbe stato ferito a morte da una freccia che lo colpì a un occhio di recente alcuni storici hanno messo in dubbio che quella raffigurazione si riferisca ad Haroldo il re inglese sarebbe invece il cavaliere che viene colpito al ventre da un normanno non ci sono certezze sul modo in cui avvenne ma ciò che è sicuro è che Haroldo morì nella cronaca anglosassone si legge fu un giorno fatale per l'Inghilterra un irreparabile disastro per la nostra amata patria con l'ascesa al trono di Guglielmo ebbe inizio il regno normanno in Inghilterra Guglielmo aveva giurato che se Dio lo avesse sostenuto nella vittoria in segno di ringraziamento avrebbe costruito un'imponente abazia nel luogo in cui Haroldo era morto la tomba è ancora oggi visibile come l'edificio sacro il simbolo concreto che Dio fin dai tempi di Rollone era al fianco dei suoi fedeli servitori i normanni il giorno di Natale del 1066 nell'abazia di Westminster vi era un grande fervore sarebbe stato incoronato il nuovo re d'Inghilterra all'esterno erano stati schierati i soldati normanni in caso di disordini l'atmosfera era tesa all'interno la chiesa era gremita di dignitari inglesi e normanni la cerimonia si svolse in lingua inglese e in francese Guglielmo era seduto sul trono quando gli fu posta la corona sul capo si udirono grida di giubilo all'esterno le truppe normanne erano in apprensione e pensarono che gli inglesi stessero contestando il nuovo re anche egli visibilmente nervoso un incendio scoppiato accidentalmente poco lontano dall'abazia contribuì ad aumentare la confusione il fuoco divampò e il fumo invase la chiesa gli invitati si precipitarono all'esterno temendo di rimanere intrappolati ci fu un grande caos solo alcuni vescovi e sacerdoti rimasero al loro posto e si affrettarono a concludere la cerimonia un pessimo inizio per un sovrano straniero la nazione doveva fare i conti con la repentina fine di un'epoca e con l'inizio di una nuova era sotto cattivi auspici ad Estings avevano perso la vita i giovani più promettenti e gli esponenti dell'antica aristocrazia inglese nella cronaca anglosassone così è scritto l'Inghilterra adesso è in mano agli stranieri la vittoria normanna ad Estings si trasformò ben presto in vera e propria conquista nei primi 20 anni di regno Guglielmo costruì più di 500 castelli Mott & Bailey alcuni di essi sorti in luoghi strategici vennero trasformati in seguito in imponenti edifici di pietra come avvenne a Dover da qui il sovrano seminò il terrore nelle campagne circostanti su cui impose il proprio dominio vennero distrutti i villaggi e massacrati gli abitanti doveva essere un esempio per il resto della popolazione per proteggere la capitale da possibili incursioni Guglielmo intraprese la costruzione della torre di Londra nella cronaca anglosassone scrissero i nuovi arrivati divorano le ricchezze e perfino le viscere dell'Inghilterra non c'è speranza che queste sofferenze abbiano fine Guglielmo introdusse importanti cambiamenti la conquista normanna contribuì a far mutare la mentalità degli inglesi fino ad allora gli anglosassoni si erano ritenuti un popolo nordico sentivano di avere affinità con i popoli della Danimarca o della Norvegia dopo la conquista normanna furono costretti a guardare verso l'Europa continentale le regioni meridionali Londra il sud-est dell'Inghilterra la Normandia è ancora più lontano verso la Francia le imponenti merlature del castello di Rochester vennero completate nel corso di molti anni ma la sua costruzione cominciò durante il regno di Guglielmo il sud-est del paese era strategicamente importante l'imponenza delle roccaforti normanne era anche un modo per scoraggiare ogni resistenza interna gli abitanti del nord dell'Inghilterra rimasero invece più legati alla loro cultura ma presto dovettero confrontarsi coi nuovi dominatori quando nel 1068 Guglielmo si recò in quelle regioni non trovò opposizione alcuni mesi dopo però scoppiò un'aperta rivolta la guidavano alcuni nobili del nord i quali uccisero la guarnigione distanza a Darem la reazione del sovrano fu brutale insieme ai suoi cavalieri colpì sistematicamente tutti i suoi avversari distruggendo le loro case e requisendo cibo e scorte quelle terre vennero devastate ne seguì una disastrosa carestia a causa della quale buona parte della popolazione dello Yorkshire venne ridotta alla fame morì o abbandonò il paese l'aristocrazia anglosassone venne costretta all'ubbidienza ma questo episodio macchiò ignobilmente il regno di Guglielmo la città di York fu decimata venne risparmiata solo la chiesa fulcro dell'intera struttura ecclesiastica del nord d'Inghilterra l'appoggio della chiesa d'Inghilterra era fondamentale essa deteneva oltre un sesto della ricchezza della nazione per assicurarsene il controllo il sovrano impose al suo interno il clero normanno cominciò proprio dalla diocesi di York la sua sede in quel periodo era vacante Guglielmo ne approfittò per nominare arcivescovo un sacerdote di Bayeux le devastazioni compiute nel nord dell'Inghilterra dimostrarono ancora una volta che i normanni erano cattivi cristiani ma erano dalla parte della chiesa darem ne fu un esempio Guglielmo utilizzò le nuove ricchezze acquisite per costruire castelli e chiese progettati da architetti normanni i loro progetti erano originali destavano ammirazione ed erano all'avanguardia le antiche chiese anglosassoni dalle linee semplici scomparvero al loro posto sorsero templi in stile normanno il numero di edifici sacri costruiti prima del 1100 è sbalorditivo essi sono l'eredità più concreta ancora esistente del regno di Guglielmo la politica del sovrano normanno mirava a espropriare e distruggere in ambito statale ed ecclesiastico tutto ciò che era legato al passato diventando re d'Inghilterra Guglielmo avviò una nuova organizzazione dello Stato suddivise il regno in feudi che concesse ai nobili normanni a lui fedeli i quali attendevano di essere ricompensati nell'arco di vent'anni i nuovi dominatori si spartirono l'intero territorio inglese fu compilato un registro catastale con ogni dettaglio delle proprietà fondiarie presenti nei domini della corona venne così realizzato il Doomsday Book apparentemente contiene solo registrazioni amministrative ma esso è una fonte ricca di informazioni sull'Inghilterra medievale i proprietari terrieri vennero inclusi nell'elenco gran parte delle proprietà erano passate ai normanni fra i grandi vassalli solo due erano anglosassoni la nazione venne colta di sorpresa quando il sovrano ordinò di registrare tutti i possedimenti nel Doomsday Book qualcuno scrisse neanche mucche e maiali sono stati omessi i normanni volevano avere informazioni esatte sul patrimonio fondiario lo consideravano di loro proprietà era come un inventario dei beni l'Inghilterra era ormai dei normanni potevano stabilirsi e acquisire terre con queste il re ricompensava i suoi alleati era una nazione sottomessa agli stranieri i normanni però non riuscirono a imporre l'uso della lingua francese la normandia rimase comunque il punto di riferimento di Guglielmo tutti i suoi sostenitori ai quali aveva concesso feudi in Inghilterra disponevano anche di possedimenti oltre manica il sovrano acquisì ricchezze immense gestire le proprietà divenne problematico eppure dimostrò saggezza e capacità Guglielmo il conquistatore fu un personaggio unico un precursore per i suoi tempi egli affidò un ruolo di potere ad una donna sua moglie Matilde che in sua assenza tenne le redini dei domini normanni è un fatto eccezionale per quel periodo ma non si trattava di femminismo anteliteram le donne semplicemente cominciarono a far parte delle strategie politiche in ambito ecclesiastico Guglielmo decise di attuare cambiamenti radicali sia a Canterbury sia a York nel nord del paese era fermamente deciso a estirpare dalla chiesa d'Inghilterra ogni influenza anglosassone convocò l'abate di Bé l'anfranco di Pavia e lo nominò arcivescovo di Canterbury la più alta carica religiosa del paese fu così affidata a uno straniero nel 1096 nessuna diocesi o abbazia era retta da un ecclesiastico di origine anglosassone ma le antiche tradizioni riuscirono a sopravvivere summer is a coming in è il più antico canto tradizionale in lingua inglese la lingua antica si perpetuò attraverso la musica popolare l'anglosassone sopravvisse solo grazie alla gente del popolo alle persone umili ormai 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 solamente costoro continuavano a usare quell'idioma ma anche l'inglese antico subì cambiamenti radicali sotto l'influenza del francese parlato dalla nuova aristocrazia straniera questi apporti contribuiranno a plasmare una nuova lingua nei due tre secoli successivi alla conquista normanna l'inglese antico assorbì dalla lingua francese tra le dieci e le dodicimila parole i termini d'uso corrente erano ventimila forse trentamila quindi sul totale di vocaboli normalmente adoperati una metà fu praticamente imposta agli inglesi il cosiddetto old english l'inglese antico però non è scomparso del tutto tuttavia nel medioevo il francese si impose nettamente sull'anglo sassone in tutti i campi vennero introdotti vocaboli di origine normanna la terminologia relativa all'esercito il lessico inerente il potere le parole correlate alla gerarchia feudale e quelle per l'ambito giudiziario sono tutte tratte dal francese era indispensabile avere una padronanza di ogni lessico specializzato per potersi confrontare con queste realtà un discorso analogo si può fare per i termini religiosi come quelli riferiti ai concili o alle cattedrali tutte le parole legate al potere e all'amministrazione statale furono introdotte dai normanni l'inghilterra era ormai sottomessa ai normanni essi si erano impadroniti del paese e delle sue istituzioni eppure Guglielmo in Inghilterra sovrano assoluto nella sua terra d'origine era solo un duca in Francia il potere supremo era nelle mani del re la chiesa riconosceva e sosteneva l'ideale monarchico in tutto il mondo cristiano il potere di un regnante era di origine divina in Normandia i titoli riconosciuti a Guglielmo e il suo potere come feudatario gli erano stati concessi dal suo signore il re in Francia esisteva una dinastia monarchica ritenuta sacra Guglielmo era consapevole del fatto che la Normandia non era che una parte del più vasto regno di Francia ma il sovrano aveva veramente ampio potere l'autorità del monarca era molto limitata governava esclusivamente la regione dell'Ile de France e disponeva di un piccolo esercito Parigi non era distante dalla Normandia i normanni avrebbero potuto attaccarla in qualunque momento il re tuttavia non pensava che Guglielmo avrebbe unito l'Inghilterra e la Normandia re d'Inghilterra e duca di Normandia Guglielmo viveva tra un paese e l'altro mantenendo un saldo controllo su entrambi nel 1087 ebbe un grave incidente a cavallo mentre combatteva un colpo all'addome gli lesionò gli organi interni venne trasportato a Rouen ma per lui non c'era più nulla da fare morì all'età di 61 anni il sarcofago in cui venne riposto il corpo fu esposto nel monastero di Khan ma accadde un incidente sgradevole il cadavere era gonfio e l'urna sepolcrale troppo piccola il corpo esplose e la chiesa fu invasa da un odore pestilenziale che fece fuggire tutti coloro che partecipavano alle esequie nei secoli successivi la tomba di Guglielmo venne saccheggiata più volte si è salvata solo una lastra di marmo sotto di essa resta solamente un frammento trascurato dai ladri il femore del re di Guglielmo di Guglielmo francese ma in qualità di re esercitava il controllo sui grandi feudatari il sistema feudale in Europa si era imposto da tempo al vertice della gerarchia c'era il re a Kenhavn in Galles ancora oggi possiamo assistere a un rito che ricorda i tempi del feudalesimo una cerimonia antica divenuta una tradizione amata dalla maggior parte degli inglesi il principe ereditario presta al sovrano solenne giuramento di fedeltà e di appoggio militare nel medioevo promesse simili erano fortemente vincolanti i monarchi ritenuti tali per diritto divino avevano un potere immenso il re di Francia esercitava il suo dominio su un'area territorialmente limitata ma in quest'ambito la sua autorità era incontrastata i legami feudali erano una realtà estranea alle popolazioni pagane del nord Europa ad esempio ai normanni di stirpe vichinga e originari della Scandinavia per secoli le coste dell'Europa settentrionale e occidentale avevano subito i loro attacchi erano uomini di mare esperti navigatori dei temibili avversari le popolazioni europee non seppero reagire ai loro assalti che il signore ci scampi dall'ira dei vichinghi era un'invocazione molto comune i monasteri in particolare erano soggetti a frequenti assalti come Mont Saint-Michel circondato quasi completamente dal mare vennero attaccati ripetutamente anche quelli situati in regioni più inaccessibili come Jumiege vicino Rouen i monaci stanchi riunirono le poche cose di valore rimaste e abbandonarono quel luogo il convento un tempo fiorente cadde in rovina a capo delle incursioni c'era un norvegese più agili di quelli inglesi tozzi e lenti questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria inoltre era indispensabile che fossero docili in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia occorreva poi che fossero coraggiosi per continuare a combattere anche feriti infine dovevano essere aggressivi e partecipare attivamente al combattimento sabato mattina 14 ottobre 1066 presso la cosiddetta Battle Hill vicino ad Estings ebbe inizio la battaglia con lo stendardo papale al vento Guglielmo avanzò lentamente seguito dalla cavalleria la fanteria di Aroldo stremata dallo scontro a Stanford Bridge formò una barriera con gli scudi gli arcieri normanni ingaggiarono battaglia cominciò così uno dei più asperi combattimenti della storia medievale la cavalleria si lanciò alla carica ma non ottenne alcun risultato il pendio della collina dove si svolgeva lo scontro ne ostacolava l'azione fin dall'inizio le truppe di Guglielmo si trovarono in grande difficoltà i normanni disponevano di ottimi reparti a cavallo ma gli uomini di Aroldo erano dotati di un'arma micidiale quest'ascia a due mani con cui erano armati gli inglesi era un eccellente strumento di attacco secondo le cronache riusciva ad abbattere cavallo e cavaliere in un solo colpo era un'arma molto pericolosa nella confusione del combattimento si sparse la notizia che Guglielmo era stato ucciso la prima fase si concluse con la vittoria degli inglesi i normanni sfiduciati sembravano ormai sconfitti ma all'improvviso Guglielmo lanciò nuovamente la carica al grido di vinceremo con l'aiuto di Dio i suoi uomini vedendolo ripresero coraggio esaltati e pieni di fiducia i normanni si lanciarono alla carica più volte durante la battaglia morirono tre cavalli di Guglielmo ma vennero sostituiti con altri altrettanto validi le selle erano molto incavate per evitare che i cavalieri venissero disarcionati Rollone poteva consolidare il suo dominio la chiesa aveva un enorme potere per questo il suo appoggio era fondamentale nelle cronache storiche redatte dai normanni due temi sono predominanti la guerra e le donazioni alla chiesa due cose apparentemente in contrasto ma per i normanni era perfettamente normale fin dai tempi antichi essi diedero molta importanza al potere militare ritenevano indispensabile investire grandi somme per avere le armi migliori cotte di maglia elmi metallici spade d'acciaio venivano pagate cifre esorbitanti soprattutto per i cavalli crearono salde basi militari per controllare le terre conquistate i cosiddetti castelli Mott & Bailey erano un mezzo efficace erano realizzati su rialzi di terreno artificiali e dotati di palizzate di legno erano costruzioni molto semplici e rispondevano a diverse esigenze avevano funzione difensiva erano una base d'appoggio per gli attacchi e un centro amministrativo per il controllo della popolazione locale attorno all'anno 1000 in Europa si assistette a un risveglio religioso fra i monaci e gli ecclesiastici la corruzione era diffusa anche il papato si era coperto di disonore l'impulso per una riforma dei costumi partì proprio dai monasteri francesi e in special modo da quelli normanni beh un tempo depredato dai vichinghi divenne uno dei più vivaci centri di rinnovamento i normanni sostennero progetti di riforma del clero liberati dal malcostume e dalla corruzione i monasteri francesi attrassero i più brillanti teologi dell'epoca divenne abate di be lanfranco da pavia uomo di lettere teologo e attivo riformatore grazie al sostegno dei normanni egli trasformò un vecchio convento sconosciuto in uno dei più famosi centri di studio dell'Europa medievale molte delle opere qui redatte all'epoca sono ancora oggi gelosamente conservate nella introdusse importanti cambiamenti la conquista normanna contribuì a far mutare la mentalità degli inglesi fino ad allora gli anglosassoni si erano ritenuti un popolo nordico sentivano di avere affinità con i popoli della Danimarca o della Norvegia dopo la conquista normanna furono costretti a guardare verso l'Europa continentale le regioni meridionali Londra il suddeste dell'Inghilterra la Normandia e ancora più lontano verso la Francia le imponenti merlature del castello di Rochester vennero completate nel corso di molti anni ma la sua costruzione cominciò durante il regno di Guglielmo il sud-est del paese era strategicamente importante l'imponenza delle roccaforti normanne era anche un modo per scoraggiare ogni resistenza interna gli abitanti del nord dell'Inghilterra rimasero invece più legati alla loro cultura ma presto dovettero confrontarsi con i nuovi dominatori quando nel 1068 Guglielmo si recò in quelle regioni non trovò opposizione alcuni mesi dopo però scoppiò un'aperta rivolta la guidavano alcuni nobili del nord i quali uccisero la guarnigione distanza a Darem la reazione del sovrano fu brutale insieme ai suoi cavalieri colpì sistematicamente tutti i suoi avversari distruggendo le loro case e requisendo cibo e scorte quelle terre vennero devastate ne seguì una disastrosa carestia a causa della quale buona parte della popolazione dello Yorkshire venne ridotta alla fame morì o abbandonò il paese l'aristocrazia anglosassone venne costretta all'ubbidienza ma questo episodio macchiò ignobilmente il regno di Guglielmo la città di York fu decimata venne risparmiata solo la chiesa fulcro dell'intera struttura ecclesiastica del nord d'Inghilterra l'appoggio della chiesa d'Inghilterra era fondamentale essa deteneva oltre un sesto della ricchezza della nazione per assicurarsene il controllo il sovrano impose al suo interno il clero normanno cominciò proprio dalla diocesi di York la sua sede in quel periodo era vacante Guglielmo ne approfittò per nominare arcivescovo un sacerdote di Bayeux le devastazioni compiute nel nord dell'Inghilterra dimostrarono un altro pretendente al trono un personaggio pittoresco il potente re di Norvegia Harald Ardrade un uomo gigantesco si diceva avesse ucciso un leone a mani nude era pronto a sbarazzarsi anche di Haroldo Haroldo dovette momentaneamente ignorare la minaccia delle truppe normanne per affrontare l'avversario norvegese i loro eserciti si scontrarono a Stanford Bridge nello Yorkshire in questo luogo tranquillo sulle rive del fiume Derwent si svolse una battaglia sanguinosa il 25 settembre 1066 questo fu il teatro di un vero e proprio massacro Ardrade colpito alla gola da una freccia morì le truppe vichinghe furono travolte centinaia di uomini erano giunti in Inghilterra con la flotta norvegese composta di 300 navi per riportare in patria i sopravvissuti ne bastarono 24 Guglielmo aveva atteso con pazienza incitando al tempo stesso le truppe salpò la sera del 28 settembre al suo seguito aveva un esercito potente 7000 uomini e 600 cavalli tre per ciascun cavaliere la nave su cui era imbarcato Guglielmo guidava la flotta dopo la traversata notturna giunsero nella baia di Pevensey le truppe appena sbarcate ringraziarono il signore e poi si diedero a grandi festeggiamenti Guglielmo cominciò a seminare il terrore mettendo a ferro e fuoco i paesi nei dintorni come sempre accade in tempo di guerra furono molti innocenti a farne le spese nel frattempo Aroldo e le sue truppe dopo il duro scontro a Stanford Bridge si prepararono a marciare verso sud per 400 chilometri impiegarono solo 12 giorni si sarebbero scontrati con il più potente esercito d'Europa quello normanno la cavalleria di Guglielmo disponeva di forti destrieri abituati alle battaglie ben più agili di quelli inglesi tozzi e lenti questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria inoltre era indispensabile che fossero docili in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia occorreva poi che fossero coraggiosi per continuare al cristianesimo per i normanni non fu un problema il capo vichingo venne battezzato durante una solenne cerimonia nella cattedrale di Rouen Rullone festeggiò l'evento in modo molto singolare uccise alcune centinaia di prigionieri alla sua morte venne sepolto in quella stessa cattedrale fu unanimamente riconosciuto come il primo leader dei normanni la loro storia era solo agli inizi Rullone e i suoi discendenti non si comportarono mai da cristiani ma furono molto legati alla chiesa si dedicarono attivamente alla ristrutturazione dei monasteri che acquisirono grande splendore l'arcangelo Michele rappresentato nell'iconografia con la spada sguainata divenne il santo patrono dei normanni essi impiegarono molto denaro per ricostruire il monastero a lui dedicato come spesso avvenne nella storia di questo popolo molte scelte celavano motivazioni politiche i normanni di Ruan Rullone suo figlio e suo nipote gradualmente restituirono le proprietà sottratte ai monasteri in questo modo la loro dinastia si assicurò l'alleanza con la chiesa potendo così godere del suo favore ciò era essenziale in quanto abati e vescovi appartenevano all'aristocrazia del luogo solo col sostegno del ceto nobiliare Rullone poteva consolidare il suo dominio la chiesa aveva un enorme potere per questo il suo appoggio era fondamentale Nelle cronache storiche redatte dai normanni due temi sono predominanti la guerra e le donazioni alla chiesa due cose apparentemente in contrasto ma per i normanni era perfettamente normale fin dai tempi antichi essi diedero molta importanza al potere militare ritenevano indispensabile investire grandi somme per avere le armi migliori cotte di maglia elmi metallici spade d'acciaio ma un inventario dei beni l'Inghilterra era ormai dei normanni potevano stabilirsi e acquisire terre con queste il re ricompensava i suoi alleati era una nazione sottomessa agli stranieri i normanni però non riuscirono a imporre l'uso della lingua francese la normandia rimase comunque il punto di riferimento di Guglielmo tutti i suoi sostenitori ai quali aveva concesso feudi in Inghilterra disponevano anche di possedimenti oltre manica il sovrano acquisì ricchezze immense gestire le proprietà divenne problematico eppure dimostrò saggezza e capacità Guglielmo il conquistatore fu un personaggio unico un precursore per i suoi tempi egli affidò un ruolo di potere ad una donna sua moglie Matilde che in sua assenza tenne le redini dei domini normanni è un fatto eccezionale per quel periodo ma non si trattava di femminismo anteliteram le donne semplicemente cominciarono a far parte delle strategie politiche in ambito ecclesiastico Guglielmo decise di attuare cambiamenti radicali sia a Canterbury sia a York nel nord del paese era fermamente deciso a estirpare dalla chiesa d'Inghilterra ogni influenza anglosassone convocò l'abate di Bé Lanfranco di Pavia e lo nominò arcivescovo di Canterbury la più alta carica religiosa del paese fu così affidata a uno straniero nel 1096 nessuna diocesi o abbazia era retta da un ecclesiastico di origine anglosassone ma le antiche tradizioni riuscirono a sopravvivere summer is a coming in è il più antico canto tradizionale in lingua inglese la lingua antica si perpetuò attraverso la musica popolare l'anglosassone sopravvisse solo grazie alla gente del popolo alle persone umili ormai solamente costoro continuavano a usare quell'idioma ma anche l'inglese antico subì cambiamenti radicali sotto l'influenza del francese parlato dalla nuova aristocrazia straniera questi apporti contribuiranno a plasmare una nuova lingua nei due tre secoli successivi alla conquista normanna l'inglese antico assorbì dalla lingua francese tra le 10 e le 12 mila parole i termini d'uso corrente erano 20 mila forse 30 mila quindi sul totale di vocaboli normalmente adoperati una metà fu praticamente imposta agli inglesi il cosiddetto old english l'inglese antico però non è scomparso del tutto tuttavia nel medioevo il francese si impose nettamente sull'anglo sassone in tutti i campi vennero introdotti vocaboli di origine normanna la terminologia relativa all'esercito il lessico inerente il potere le parole correlate alla gerarchia feudale e quelle per l'ambito giudiziario sono tutte tratte dal francese era indispensabile avere una padronanza di ogni lessico specializzato per potersi confrontare con queste realtà un discorso analogo si può fare per i termini religiosi come quelli riferiti ai concili o alle cattedrali tutte le parole legate al potere e all'amministrazione statale furono introdotte dai normanni l'inghilterra era ormai sottomessa ai normanni essi si erano impadroniti del paese e delle sue istituzioni eppure guglielmo in inghilterra sovrano assoluto nella sua terra d'origine era solo un duca in francia il potere supremo era nelle mani del re la chiesa riconosceva e sosteneva l'ideale monarchico in tutto il mondo cristiano il potere di un regnante era di origine divina in normandia i titoli riconosciuti a guglielmo e il suo potere come feudatario gli erano stati concessi dal suo signore il re in francia esisteva una dinastia monarchica ritenuta sacra guglielmo era consapevole del fatto che la normandia non era che una parte del più vasto regno di francia ma il sovrano aveva veramente ampio potere l'autorità del monarca era molto limitata governava esclusivamente la regione dell'île de France e disponeva di un piccolo esercito Parigi non era distante dalla normandia i normanni avrebbero potuto attaccarla in qualunque momento il re tuttavia non pensava che guglielmo avrebbe unito l'inghilterra e la normandia re d'inghilterra e duca di normandia guglielmo viveva tra un paese e l'altro mantenendo un saldo controllo stato un efficiente macchina amministrativa per governare il paese imponendo un sistema tributario molto redditizio l'imposta fondiaria grazie ad essa il regno d'inghilterra era uno dei più ricchi d'europa era una nazione prospera ordinata con un territorio molto più vasto del ducato di normandia un'occasione da cogliere al volo l'attrattiva dell'inghilterra era la sua ricchezza ed era per questo stesso motivo che generazioni di scandinavi erano state indotte in passato a saccheggiarla il regno aveva un efficientissimo apparato amministrativo che non lasciava spazio all'evasione fiscale i sovrani riuscivano sempre a riscuotere ciò che era loro dovuto nessun'altra nazione europea aveva un sistema di esazione così valido quindi ciò che attirò Guglielmo non fu il trono o il titolo regale ma la possibilità di conquistare una terra ricchissima in quegli anni l'inghilterra attraversava una grave crisi dinastica si diceva che il sovrano anglosassone avesse promesso la corona a Guglielmo in caso di mancanza di eredi diretti il duca normanno oltretutto poteva rivendicare dei diritti egli infatti era cugino del re d'inghilterra Edoardo il confessore ma diventare sovrano di quella terra non sarebbe stato facile vi erano altri pretendenti tutti come Guglielmo avevano origini vichinghe ognuno di loro era fermamente deciso a conquistare il potere agli inizi del 1066 fu portato a termine il progetto che stava più a cuore al re inglese l'abazia di Westminster un edificio splendido progettato da architetti normanni Edoardo il confessore però morì lo stesso anno l'unica funzione religiosa a cui partecipò in quella chiesa fu il proprio funerale con la morte di Edoardo avvenuta nel gennaio del 1066 si estingueva la dinastia dei sovrani anglosassoni immediatamente dopo la scomparsa del re il cognato Harold Godwinson prontamente organizzò nell'abazia la propria incoronazione come nuovo sovrano salì al trono col nome di Haroldo II re d'Inghilterra molti aristocratici sostenevano la sua causa in special modo la nobiltà anglo-danese a lui alle aglie ben più agili di quelli inglesi tozzi e lenti questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria inoltre era indispensabile che fossero docili in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia occorreva poi che fossero coraggiosi per continuare a combattere anche feriti infine dovevano essere aggressivi e partecipare attivamente al combattimento sabato mattina 14 ottobre 1066 presso la cosiddetta Battle Hill vicino ad Estings ebbe inizio la battaglia con lo stendardo papale al vento Guglielmo avanzò lentamente seguito dalla cavalleria la fanteria di Aroldo stremata dallo scontro a Stanford Bridge formò una barriera con gli scudi gli arcieri normanni ingaggiarono battaglia cominciò così uno dei più asperi combattimenti della storia medievale la cavalleria si lanciò alla carica ma non ottenne alcun risultato il pendio della collina dove si svolgeva lo scontro ne ostacolava l'azione fin dall'inizio le truppe di Guglielmo si trovarono in grande difficoltà i normanni disponevano di ottimi reparti a cavallo ma gli uomini di Aroldo erano dotati di un'arma micidiale quest'ascia a due mani con cui erano armati gli inglesi era un eccellente strumento di attacco secondo le cronache riusciva ad abbattere cavallo e cavaliere in un solo colpo era un'arma molto pericolosa nella confusione del combattimento si sparse la notizia che Guglielmo era stato ucciso la prima fase si concluse con la vittoria degli inglesi i normanni sfiduciati sembravano ormai sconfitti ma all'improvviso Guglielmo lanciò nuovamente la carica al grido di vinceremo con l'aiuto di Dio i suoi uomini vedendolo ripresero coraggio esaltati e pieni di fiducia i normanni si lanciarono alla carica più volte durante la battaglia morirono tre cavalli di Guglielmo ma vennero sostituiti con altri altrettanto validi le selle erano molto incavate per evitare che i cavalieri venissero disarciati fu compilato un registro catastale con ogni dettaglio delle proprietà fondiarie presenti nei domini della corona venne così realizzato il Doomsday Book apparentemente contiene solo registrazioni amministrative ma esso è una fonte ricca di informazioni sull'Inghilterra medievale i proprietari terrieri vennero inclusi nell'elenco gran parte delle proprietà erano passate ai normanni fra i grandi vassalli solo due erano anglosassoni la nazione venne colta di sorpresa quando il sovrano ordinò di registrare tutti i possedimenti nel Doomsday Book qualcuno scrisse neanche mucche e maiali sono stati omessi i normanni volevano avere informazioni esatte sul patrimonio fondiario lo consideravano di loro proprietà era come un inventario dei beni l'Inghilterra era ormai dei normanni potevano stabilirsi e acquisire terre con queste il re ricompensava i suoi alleati era una nazione sottomessa agli stranieri i normanni però non riuscirono a imporre l'uso della lingua francese la normandia rimase comunque il punto di riferimento di Guglielmo tutti i suoi sostenitori ai quali aveva concesso feudi in Inghilterra disponevano anche di possedimenti oltre manica il sovrano acquisì ricchezze immense gestire le proprietà divenne problematico eppure dimostrò saggezza e capacità Guglielmo il conquistatore fu un personaggio unico un precursore per i suoi tempi egli affidò un ruolo di potere ad una donna sua moglie Matilde che in sua assenza tenne le redini dei domini normanni è un fatto eccezionale per quel periodo ma non si trattava di femminismo anteliteram le donne semplicemente cominciarono a far parte delle strategie politiche in ambito ecclesiastico Guglielmo decise di attuare cambiamenti radicali sia a Canterbury sia a York nel nord del paese era fermamente deciso a estirpare dalla chiesa d'Inghilterra ogni influenza anglosassone convocò l'abate di Bè l'anfranco di Pavia e lo nominò arcivescovo di Canterbury la più alta carica religiosa del paese fu così affidata a uno straniero nel 1096 nessuna diocesi o abbazia era retta da un ecclesiastico di origine anglosassone ma le antiche tradizioni riuscirono a sopravvivere la Normandia rimase comunque il punto di riferimento di Guglielmo tutti i suoi sostenitori ai quali aveva concesso feudi in Inghilterra disponevano anche di possedimenti oltre manica il sovrano acquisì ricchezze immense gestire le proprietà divenne problematico eppure dimostrò saggezza e capacità Guglielmo il conquistatore fu un personaggio unico un precursore per i suoi tempi egli affidò un ruolo di potere ad una donna sua moglie Matilde che in sua assenza tenne le redini dei domini normanni è un fatto eccezionale per quel periodo ma non si trattava di femminismo anteliteram le donne semplicemente cominciarono a far parte delle strategie politiche in ambito ecclesiastico Guglielmo decise di attuare cambiamenti radicali sia a Canterbury sia a York nel nord del paese era fermamente deciso a estirpare dalla chiesa d'Inghilterra ogni influenza anglosassone convocò l'abate di Bé l'anfranco di Pavia e lo nominò arcivescovo di Canterbury la più alta carica religiosa del paese fu così affidata a uno straniero nel 1096 nessuna diocesi o abbazia era retta da un ecclesiastico di origine anglosassone ma le antiche tradizioni riuscirono a sopravvivere summer is a coming in è il più antico canto tradizionale in lingua inglese la lingua antica si perpetuò attraverso la musica popolare l'anglosassone sopravvisse solo grazie alla gente del popolo alle persone umili ormai solamente costoro continuavano a usare quell'idioma ma anche l'inglese antico subì cambiamenti radicali sotto l'influenza del francese parlato dalla nuova aristocrazia straniera questi apporti contribuiranno a plasmare una nuova lingua nei due tre secoli successivi alla conquista normanna l'inglese antico assorbì dalla lingua francese tra le dieci e le dodicimila parole i termini d'uso nulla sarà più come prima anno 1066 l'inghilterra affronta una svolta cruciale che muterà per sempre il corso della sua storia la conquista da parte dei normanni rappresenta un momento decisivo un avvenimento controverso agli occhi degli storici anglosassoni ma l'inghilterra non fu l'unico obiettivo dell'espansionismo normanno i normanni dilagarono sulla scena europea in un susseguirsi di brillanti campagne militari e conquiste nonostante il ruolo di rilievo occupato da questo popolo nella storia del vecchio continente esso scomparve nel giro di due secoli dalle terre che aveva conquistato e domato la battaglia di estings fu forse la più lunga azione di guerra di tutto il medioevo tutta europa guardò con orrore a questo scontro fu una carneficina buona parte dell'aristocrazia e dei nobili d'inghilterra venne trucidata o imprigionata e condannata a morte altri fuggirono a costantinopoli la nazione cadde sotto il dominio di un sovrano spietato guglielmo era un generale esperto agiva con freddezza e prudenza ma era capace anche di decisioni temerarie attraverso la propaganda i vincitori cercarono di far credere che l'inghilterra fosse un paese arretrato una terra in cui era ancora in uso una lingua barbara l'anglosassone e credenze religiose estremamente al resto d'europa i conquistatori descrissero l'inghilterra come un paese primitivo che essi avevano salvato dalla barbarie Carlo Magno era morto nell'814 d.C. l'impero carolingio da lui creato si stava smembrando con la sua disgregazione l'Europa cadde nel caos Nessun monarca venne giudicato idoneo a raccogliere la grande eredità di Carlo Magno il suo impero venne diviso fra i tre nipoti la parte occidentale divenne il regno di Francia il suo sovrano Carlo il Calvo aveva in proprio possesso solamente una piccola parte del territorio francese ma in qualità di re esercitava il controllo sui grandi feudatari il sistema feudale in Europa si era imposto da tempo al vertice della gerarchia c'era il re a Kenhavn in Galles ancora oggi possiamo assistere a un rito che ricorda i tempi del feudalesimo una cerimonia antica divenuta una tradizione amata dalla maggior parte degli inglesi il principe ereditario presta al sovrano solenne giuramento di fedeltà e di appoggio militare nel medioevo promesse simili erano fortemente vincolanti i monarchi ritenuti tali per diritto divino avevano un potere immenso il re di Francia esercitava il suo dominio su un'area territorialmente limitata ma in quest'ambito la sua autorità era incontrastata i legami feudali erano una realtà estranea alle popolazioni pagane del nord Europa ad esempio ai normanni di stirpe vichinga e originari della Scandinavia per secoli le coste dell'Europa settentrionale e occidentale avevano subito i loro attacchi erano uomini di mare esperti navigatori dei temibili avversari le popolazioni europee non sappero reagire ai loro assalti che il signore ci scampi dall'ira dei vichinghi era un'invocazione molto comune i monasteri in particolare erano soggetti a frequenti assalti come Mont Saint Michel circondato quasi completamente dal mare vennero attaccati ripetutamente anche quelli situati in regioni più inaccessibili come Jumiege vicino Rouen i monaci stanchi riunirono le poche cose di valore rimaste e abbandonarono quel luogo il convento un tempo fiorente cadde in rovina a capo delle incursioni c'era un norvegese Rollone era un uomo dal fisico imponente impavido e crudele il popolo normanno trovò coesione attorno a questa figura guida per evitare incursioni su Parigi il re di Francia fu costretto a trattare con lui non era possibile sconfiggerli con un'azione militare nel 911 venne così concluso un accordo a Rollone e ai suoi vennero concessi i feudi della Normandia come vassalli dovevano difenderli da potenziali invasori e servire lealmente il re di Francia loro signore un altro punto dell'accordo prevedeva che il loro capo norvegese pagano si convertisse al cristianesimo per i normanni non fu un problema il capo vichingo venne battezzato durante una solenne cerimonia nella cattedrale di Rouen Rollone festeggiò l'evento in modo molto singolare uccise alcune centinaia di prigionieri alla sua morte venne sepolto in quella stessa cattedrale fu unanimamente riconosciuto come il primo leader dei normanni la loro storia era solo agli inizi rollone e i suoi discendenti non si comportarono mai da cristiani ma furono molto legati alla chiesa si dedicarono attivamente alla ristrutturazione dei monasteri che acquisirono grande splendore l'arcangelo l'arcangelo Michele rappresentato nell'iconografia con la spada sguainata divenne il santo patrono dei normanni essi impiegarono molto denaro per ricostruire il monastero a lui dedicato come spesso avvenne nella storia di questo popolo molte scelte celavano motivazioni politiche i normanni di Rouen rollone suo figlio e suo nipote gradualmente restituirono le proprietà sottratte ai monasteri in questo modo la loro dinastia si assicurò l'alleanza con la chiesa potendo così godere del suo favore ciò era essenziale in quanto abati e vescovi appartenevano all'aristocrazia del luogo solo col sostegno del ceto nobiliare rollone poteva consolidare il suo dominio la chiesa aveva un enorme potere per questo il suo appoggio era fondamentale nelle cronache storiche redatte dai normanni due temi sono predominanti la guerra e le donazioni alla chiesa due cose apparentemente in contrasto ma per i normanni era perfettamente normale fin dai tempi antichi essi diedero molta importanza al potere militare ritenevano indispensabile investire grandi somme per avere le armi migliori cotte di maglia elmi metallici spade d'acciaio venivano pagate cifre esorbitanti soprattutto per i cavalli crearono salde basi militari per controllare le terre conquistate i cosiddetti castelli Mott & Bailey erano un mezzo efficace erano realizzati su rialzi di terreno artificiali e dotati di palizzate di legno erano costruzioni molto semplici e rispondevano a diverse esigenze avevano funzione difensiva erano una base d'appoggio per gli attacchi e un centro amministrativo per il controllo della popolazione locale attorno all'anno 1000 in Europa si assistette a un risveglio religioso fra i monaci e gli ecclesiastici la corruzione era diffusa anche il papato si era coperto di disonore l'impulso per una riforma dei costumi partì proprio dai monasteri francesi e in special modo da quelli normanni beh un tempo depredato dai vichinghi divenne uno dei più vivaci centri di rinnovamento i normanni sostennero progetti di riforma del clero liberati dal malcostume e dalla corruzione i monasteri francesi attrassero i più brillanti teologi dell'epoca divenne abate di bé lanfranco da pavia uomo di lettere teologo e attivo riformatore grazie al sostegno dei normanni egli trasformò un vecchio convento sconosciuto in uno dei più famosi centri di studio dell'Europa medievale molte delle opere qui redatte all'epoca sono ancora oggi gelosamente conservate nella biblioteca del monastero attualmente solo pochi esperti si interessano a questi testi un tempo invece bé attirava studiosi da tutta Europa il più famoso fu un italiano Anselmo d'Abaggio egli in seguito ascese al soglio pontificio e divenne uno dei grandi riformatori della chiesa i suoi scritti divennero patrimonio comune di tutto il mondo cristiano prima della nascita delle università i monasteri erano attivissimi centri propulsori della cultura beh eccelleva in questo campo la Normandia ormai non era più ritenuta una terra di barbari predoni come ai tempi di Rollone i signori di quelle terre investivano nell'arte e nella cultura mettendo a disposizione dei teologi e della chiesa ampie ricchezze nel giro di un centinaio di anni i normanni non erano più gli uomini del nord ormai non esercitavano più la pirateria e si erano convertiti al cristianesimo avevano abbandonato l'antica lingua scandinava parlavano il francese e si erano integrati con la popolazione locale gli antichi miti su questa stirpe nordica vennero appositamente creati dagli storici del tempo i normanni trovarono una coesione nelle leggende dove venivano rappresentati come popolo eletto dal signore si diceva che sarebbe stato loro inviato un grande condottiero nato però sotto cattivi auspici il duca normanno Roberto che viveva a Falaise ebbe una relazione clandestina con la figlia di un contadino del luogo nacque un erede illegittimo Guglielmo di ritorno da un pellegrinaggio in terra santa Roberto morì il bambino aveva solo sette anni l'ascesa al trono di Guglielmo trovò molte opposizioni nacquero complotti contro di lui e dovettero intervenire alcuni amici fidati di suo padre e i familiari di sua madre per proteggerlo dalle numerose congiure l'ostacolo principale alla sua successione era costituito dal fatto che Guglielmo era figlio illegittimo i normanni avevano tre modi diversi di usare la lancia il primo con il braccio sollevato al di sopra della spalla poi c'era il movimento dal basso ideale per colpire i soldati di fanteria e infine stringendo la lancia sotto il braccio questa tecnica venne perfezionata nell'undicesimo secolo per disarcionare l'avversario la battaglia fu una delle più lunghe della storia inglese il vantaggio acquisito dalla cavalleria normanna andò sempre più riducendosi gli inglesi avrebbero potuto ancora ottenere la vittoria fu allora che Guglielmo decise di ricorrere al trucco della finta ritirata ordinò a tutti i suoi reparti di ripiegare non era una tattica improvvisata l'aveva già usata in passato diede ordine ai suoi cavalieri alla fanteria e agli arcieri di andare alla carica contro gli inglesi per poi allontanarsi come se avessero deciso la ritirata in questo modo li avrebbero indutti ad abbandonare le posizioni prima che l'esito dello scontro fosse deciso gli inglesi una volta scesi a valle sarebbero stati accerchiati e sconfitti pensando di avere la vittoria in pugno i soldati anglosassoni ruppero i ranghi e inseguirono i normanni fu un errore fatale seguendo gli ordini di Guglielmo i cavalieri normanni circondarono gli inglesi e li massacrarono dopo più di otto ore di combattimento la vittoria sfuggì di mano agli anglosassoni secondo le prime interpretazioni della razza di Bayeux Haroldo sarebbe stato ferito a morte da una freccia che lo colpì a un occhio di recente alcuni storici hanno messo in dubbio che quella raffigurazione si riferisca ad Haroldo il re inglese sarebbe invece il cavaliere che viene colpito al ventre da un normanno non ci sono certezze sul modo in cui avvenne ma ciò che è sicuro è che Haroldo morì nella cronaca anglosassone si legge fu un giorno fatale per l'Inghilterra un irreparabile disastro per la nostra amata patria con l'ascesa al trono di Guglielmo ebbe inizio il regno normanno in Inghilterra Guglielmo aveva giurato che se Dio lo avesse sostenuto nella vittoria in segno di ringraziamento avrebbe costruito un'imponente abazia nel luogo in cui Haroldo era morto la tomba è ancora oggi visibile come l'edificio sacro il simbolo concreto che Dio fin dai tempi di Rollone era al fianco dei suoi fedeli servitori i normanni il giorno di Natale del 1066 nell'abazia di Westminster vi era un grande fervore sarebbe stato incoronato il nuovo re d'Inghilterra all'esterno erano stati schierati i soldati normanni in caso di disordini l'atmosfera era tesa all'interno la chiesa era gremita di dignitari inglesi e normanni la cerimonia si svolse in lingua inglese e in francese Guglielmo era seduto sul trono quando gli fu posta la corona sul capo si udirono grida di giubilo all'esterno le truppe normanne erano in apprensione e pensarono che gli inglesi stessero contestando il nuovo re anche egli visibilmente nervoso un incendio scoppiato accidentalmente poco lontano dall'abazia contribuì ad aumentare la confusione il fuoco divampò e il fumo invase la chiesa gli invitati si precipitarono all'esterno temendo di rimanere intrappolati ci fu un grande caos solo alcuni vescovi e sacerdoti rimasero al loro posto e si affrettarono a concludere la cerimonia un pessimo inizio per un sovrano straniero la nazione doveva fare i conti con la repentina fine di un'epoca e con l'inizio di una nuova era sotto cattivi auspici ad Estings avevano perso la vita i giovani più promettenti e gli esponenti dell'antica aristocrazia inglese nella cronaca anglosassone così è scritto l'Inghilterra adesso è in mano agli stranieri la vittoria normanna ad Estings si trasformò ben presto in vera e propria conquista nei primi venti anni di regno Guglielmo costruì più di 500 castelli Mott & Bailey alcuni di essi sorti in luoghi strategici vennero trasformati in seguito in imponenti edifici di pietra come avvenne a Dover da qui il sovrano seminò il terrore nelle campagne circostanti su cui impose il proprio dominio vennero distrutti i villaggi e massacrati gli abitanti doveva essere un esempio per il resto della popolazione per proteggere la capitale da possibili incursioni Guglielmo intraprese la costruzione della torre di Londra nella cronaca anglosassone scrissero i nuovi arrivati divorano le ricchezze e perfino le viscere dell'Inghilterra non c'è speranza che queste sofferenze abbiano fine Guglielmo introdusse importanti cambiamenti la conquista normanna contribuì a far mutare la mentalità degli inglesi fino ad allora gli anglosassoni si erano ritenuti un popolo nordico sentivano di avere affinità con i popoli della Danimarca o della Norvegia dopo la conquista normanna furono costretti a guardare verso l'Europa continentale le regioni meridionali Londra il sud-est dell'Inghilterra la Normandia e ancora più lontano verso la Francia le imponenti merlature del castello di Rochester vennero completate nel corso di molti anni ma la sua costruzione cominciò durante il regno di Guglielmo il sud-est del paese era strategicamente importante l'imponenza delle roccaforti normanne era anche un modo per scoraggiare ogni resistenza interna gli abitanti del nord dell'Inghilterra rimasero invece più legati alla loro cultura ma presto dovettero confrontarsi coi nuovi dominatori quando nel 1068 Guglielmo si recò in quelle regioni non trovò opposizione alcuni mesi dopo però scoppiò un'aperta rivolta la guidavano alcuni nobili del nord i quali uccisero la guarnigione distanza a Darem la reazione del sovrano fu brutale insieme ai suoi cavalieri sua madre non era regolarmente sposata con il duca Roberto gli zii in special modo ritenevano che per questa ragione egli non avrebbe mai potuto ereditare il potere in realtà grazie anche al sostegno della famiglia materna i suoi oppositori non riuscirono a spodestarlo con una determinazione eccezionale per la sua età Guglielmo riuscì a superare ogni ostacolo divenne uno dei più grandi condottieri medievali perfettamente addestrato a combattere con la spada e maestro nelle tecniche di guerra con utilizzo della cavalleria questa esperienza gli era necessaria la Normandia subiva pericolosi attacchi dall'esterno mentre al suo interno i potenti feudatari fomentavano rivolte a 18 anni nello scontro di Val de Dune per la prima volta si trovò a capo dell'esercito sconfisse i baroni ribelli con il sostegno del sovrano di Francia il biografo di Guglielmo narra che egli impavido di fronte alla forza dei nemici compì una vera strage il giovane duca mostrava già un animo spietato di cui il suo avo rollone sarebbe stato fiero dopo questo scontro vi furono molte altre battaglie Guglielmo ne uscì sempre vincitore i suoi uomini lo consideravano invincibile adottò nuove strategie d'attacco ad esempio fingeva di ritirarsi per poi assalire il nemico di sorpresa sconfiggendolo nel corso degli anni respinse molti attacchi alle frontiere della Normandia fra questi quelli del re di Francia suo ex alleato anche all'interno del ducato c'erano tensioni fortissime il castello di Caen è il simbolo della determinazione di Guglielmo nel riportare l'ordine nelle sue terre da qui egli gestiva il potere il castello rappresentava la sua autorità Guglielmo era un impareggiabile stratega non solo sul campo di battaglia riuscì a consolidare il suo ruolo anche grazie al suo matrimonio con Matilde scelse abilmente la sua sposa una giovane affascinante figlia del potente conte di Fiandra ma c'era un ostacolo all'unione la chiesa aveva stabilito leggi molto rigide in materia coniugale ponendo limiti alle unioni fra parenti in qualità di cugini Guglielmo e Matilde non avrebbero potuto sposarsi anche il pontefice non approvava questa unione ma da Roma furono messe a tacere le obiezioni quando Guglielmo fece costruire due grandi abazie a Caen un imponente monastero dedicato a Santo Stefano e in onore della moglie Matilde uno splendido convento per suore la cosiddetta abbazia delle donne con la chiesa della Trinità divenne poi luogo di sepoltura di Matilde alla sua morte nel 1083 la regina fu inumata nella chiesa fatta edificare dal marito Guglielmo il conquistatore era considerato un eccellente guerriero sapeva combattere la vittoria di Hastings ne fu una dimostrazione lampante possedeva anche un'ampia visione politica creò la città di Caen riunendo diversi piccoli villaggi attorno a un imponente castello e costruì due abazie fu un progetto urbanistico davvero strategico l'espansione territoriale fu un elemento fondamentale del disegno politico dei normanni l'Inghilterra rappresentava per Guglielmo un'allettante opportunità di conquista era una nazione anglosassone con una popolazione di due milioni di abitanti la metà dei quali in condizioni di semischiavitù gente semplice dedita all'agricoltura e asservita al ceto nobiliare l'aristocrazia aveva creato un'efficiente macchina amministrativa per governare il paese imponendo un sistema tributario molto redditizio l'imposta fondiaria grazie ad essa il regno d'Inghilterra era uno dei più ricchi d'Europa era una nazione prospera ordinata con un territorio molto più vasto del ducato di Normandia un'occasione da cogliere al volo l'attrattiva l'attrattiva dell'Inghilterra era la sua ricchezza ed era per questo stesso motivo che generazioni di scandinavi erano state indotte in passato a saccheggiarla il regno aveva un efficientissimo apparato amministrativo che non lasciava spazio all'evasione fiscale i sovrani riuscivano sempre a riscuotere ciò che era loro dovuto nessun'altra nazione europea aveva un sistema di esazione così valido quindi ciò che attirò Guglielmo non fu il trono o il titolo regale ma la possibilità di conquistare una terra ricchissima in quegli anni l'Inghilterra attraversava una grave crisi dinastica si diceva che il sovrano anglosassone avesse promesso la corona a Guglielmo in caso di mancanza di eredi diretti il duca normanno oltretutto poteva rivendicare dei diritti egli infatti era cugino del re d'Inghilterra Edoardo il confessore ma diventare sovrano di quella terra non sarebbe stato facile vi erano altri pretendenti tutti come Guglielmo avevano origini vichinghe ognuno di loro era fermamente deciso a conquistare il potere agli inizi del 1066 fu portato a termine il progetto che stava più a cuore al re inglese l'abazia di Westminster un edificio splendido progettato da architetti normanni Edoardo il confessore però morì lo stesso anno l'unica funzione religiosa a cui partecipò in quella chiesa fu il proprio funerale con la morte di Edoardo avvenuta nel gennaio del 1066 si estingueva la dinastia dei sovrani anglosassoni immediatamente dopo la scomparsa del re il cognato Harold Godwinson prontamente organizzò nell'abazia la propria incoronazione come nuovo sovrano salì al trono col nome di Aroldo II re d'Inghilterra molti aristocratici sostenevano la sua causa in special modo la nobiltà anglo-danese a lui alleata il colpo di mano di Aroldo spinse i suoi avversari all'azione Guglielmo duca di Normandia fu il primo a intervenire sosteneva che in passato Aroldo gli aveva giurato fedeltà riconoscendolo legittimo erede alla corona inglese affermò che rompere un giuramento era un atto sacrilego con questa abile mossa riuscì ad assicurarsi l'appoggio del papa proprio in quei giorni apparve nel cielo notturno la cometa di Halley venne considerata un cattivo auspicio per Aroldo anche l'esercito radunato da Guglielmo non lasciava presagire nulla di buono un'armata di 7000 uomini si raccolse nel porto di Dives-sur-Mer vicino a Caen non erano tutti normanni circa un quinto di essi proveniva dalle regioni vicine Bretagna Fiandre Artois e Piccardia la spedizione era stata preparata con cura venne appositamente costruita una flotta di 700 vascelli nonostante gli uomini fossero pronti Guglielmo non volle correre rischi le cattive condizioni meteorologiche e le notizie ricevute dalle sue spie in Inghilterra lo inducevano alla prudenza i suoi informatori gli avevano preannunciato l'intervento di un altro pretendente al trono un personaggio pittoresco il potente re di Norvegia Harald Ardrade un uomo gigantesco si diceva avesse ucciso un leone a mani nude era pronto a sbarazzarsi anche di Haroldo Haroldo dovette momentaneamente ignorare la minaccia delle truppe normanne per affrontare l'avversario norvegese i loro eserciti si scontrarono a Stanford Bridge nello Yorkshire in questo luogo tranquillo sulle rive del fiume Derwent si svolse una battaglia sanguinosa il 25 settembre 1066 questo fu il teatro di un vero e proprio massacro Ardrade colpito alla gola da una freccia morì le truppe vichinghe furono travolte centinaia di uomini erano giunti in Inghilterra con la flotta norvegese composta di 300 navi per riportare in patria i sopravvissuti ne bastarono 24 Guglielmo aveva atteso con pazienza incitando al tempo stesso le truppe salpò la sera del 28 settembre al suo seguito aveva un esercito potente 7000 uomini e 600 cavalli tre per ciascun cavaliere la nave su cui era imbarcato Guglielmo guidava la flotta dopo la traversata notturna giunsero nella baia di Pevensey le truppe appena sbarcate ringraziarono il signore e poi si diedero a grandi festeggiamenti Guglielmo cominciò a seminare il terrore mettendo a ferro e fuoco i paesi nei dintorni come sempre accade in tempo di guerra furono molti innocenti a farne le spese nel frattempo Aroldo e le sue truppe dopo il duro scontro a Stanford Bridge si prepararono a marciare verso sud per 400 chilometri impiegarono solo 12 giorni si sarebbero scontrati con il più potente esercito d'Europa quello normanno la cavalleria di Guglielmo disponeva di forti destrieri abituati alle battaglie ben più agili di quelli inglesi tozzi e lenti questi animali dovevano essere abbastanza forti da riuscire a portare in sella un cavaliere con l'armatura dovevano essere abbastanza alti da sovrastare la fanteria avversaria inoltre era indispensabile che fossero docili in modo da non innervosirsi nel frastuono della battaglia occorreva poi che fossero coraggiosi per continuare a combattere anche feriti infine dovevano essere aggressivi e partecipare attivamente al combattimento sabato mattina 14 ottobre 1066 presso la cosiddetta Battle Hill vicino ad Estings ebbe inizio la battaglia con lo standardo papale al vento Guglielmo avanzò lentamente seguito dalla cavalleria la fanteria di Aroldo stremata dallo scontro a Stanford Bridge formò una barriera con gli scudi gli arcieri normanni ingaggiarono battaglia cominciò così uno dei più asperi combattimenti della storia medievale la cavalleria si lanciò alla carica ma non ottenne alcun risultato il pendio della collina dove si svolgeva lo scontro ne ostacolava l'azione fin dall'inizio le truppe di Guglielmo si trovarono in grande difficoltà i normanni disponevano di ottimi reparti a cavallo ma gli uomini di Aroldo erano dotati di un'arma micidiale quest'ascia a due mani con cui erano armati gli inglesi era un eccellente strumento di attacco secondo le cronache riusciva ad abbattere cavallo e cavaliere in un solo colpo era un'arma molto pericolosa nella confusione del combattimento si sparse la notizia che Guglielmo era stato ucciso la prima fase si concluse con la vittoria degli inglesi i normanni sfiduciati sembravano ormai sconfitti ma all'improvviso Guglielmo lanciò nuovamente la carica al grido di vinceremo con l'aiuto di Dio i suoi uomini vedendolo ripresero coraggio esaltati e pieni di fiducia i normanni si lanciarono alla carica più volte durante la battaglia morirono tre cavalli di Guglielmo ma vennero sostituiti con altri altrettanto validi le selle erano molto incavate per evitare che i cavalieri venissero disarcionati un pomo posto sulla parte frontale e uno su quella posteriore consentivano di rimanere comodamente in groppa nelle raffigurazioni della razza di Bayeux si può notare un'altra caratteristica le staffe erano lunghissime i cavalieri potevano così mettersi in piedi e colpire facilmente con la spada o con la lancia di Guglielmo di Guglielmo di Guglielmo di Guglielmo di Guglielmo